ehi pirati scalmanati per i veterani sto per sbloccare un piccolo ricordo perché in questo video vi mostrerò come poter sbloccare gratuitamente i livelli della fazione di oro anime e il mercante sto parlando delle lettere di referenza che potrete acquistare una volta al mese direttamente dalla nostra larina in cambio essa vi chiederà le famose monete blu che potrete tranquillamente farmare nella stagione 11 trovando dei capitani cinerei sulle varie isole vi consigliamo quelle piccole perché saranno più semplici da trovare in particolare uccidendo lo scheletro scenerio che in precedenza ci donnava solo una chiave sceneria adesso oltre a quella ci tropperà un teschio raro e una mappa del tesoro sulla stessa isola ci farà trovare il forziere cinereo aprendo questa reliquia sarà facile trovare dei tomi che veduti alla rinna ci tropperanno monete blu e ci sbloccheranno anche i cosmetici relativi al drago cinereo sperando che questa piccola guida vi sia stata d'aiuto vi diamo appuntamento al prossimo video sulla stagione 11 a presto pirati scalmanati 11 a presto